Parliamo del porto di Ravenna e i lavori che si stanno facendo, i lavori di miglioria per questa importantissima struttura del territorio, il porto di Ravenna, ma il porto della regione Emilia-Romagna. Abbiamo con noi il Presidente e chiediamo direttamente a lui di raccontarci come sono stati avviati questi lavori e che cosa si prevede. I lavori che sono iniziati nei giorni scorsi servono per riportare alla piena operatività, alla piena funzionalità il porto di Ravenna che era stato purtroppo nei giorni scorsi oggetto di una ordinanza della Capitaneria di Porto che in qualche modo limitava l'accesso al porto a navi con un pescaggio superiore a certi limiti, perché si era formato questo importante dosso di sabbia, circa 40-50 mila metri cubi di sabbia in zona a Van Porto. Sono partiti, come lei ha detto, i lavori nei giorni scorsi, confidiamo che nel giro di un mese più o meno sia tutto terminato e quindi che il porto possa velocissimamente riacquistare la piena operatività.